Ehi, 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 ehi! Che cosa abbiamo lì? Sembra un cazzo di notevoli dimensioni! Nascondimelo! O verrò a segartelo! Stai attento! Non ammettere che è un fenomeno nel lavoro che fa è da ciechi! Già mo' ormai sono in chat da tempo, vorrei raccontarti di me. Non me ne frega un cazzo! Allora, va bene non ti frega un cazzo come immaginavo. Tieniti la mia sub però almeno fammi vedere da vicino il muco di Sofia. Non chiedere. Vabbè non chiedo. Pagami, però, no, e... Che è? C'è il mio muco in vendita? Sto bene con Sofia, il problema di fondo non è tanto... Affrontare o meno i problemi con Sofia. Il problema è che anche avessimo dei problemi li affrontiamo dopo un po' perché... Non ci passo tempo con Sofia. Cioè, mi sveglio alle 4 del pomeriggio, lei alle 5 va in stream. Stacca la stream quando io attacco la stream. Quindi, quando stacco la stream vado a letto e sta dormendo. Quindi non... Poi quando mi voglio... Ci vogliamo ritagliare dei momenti per noi, ovviamente ce la facciamo. Però durante la settimana è complicato. Però, raga, cioè, nel senso, non è piangere, è un lavoro. Quando decidi di fare un lavoro ti porti appresso il bello e il brutto di un lavoro. Il lavoro, questo lavoro, ragazzi, onestamente è complicato. Il ritardo, poi... Il ritardo, poi... Perché rigolo, uh... Per dire un dito al culo. Ma... 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 Questo, porco di Dio, è rigore di... C'è pure un colpo sul ginocchio, dicono. E... Ma... 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 Ma...